Buongiorno Edoardo De Filippis, giovane politico palermitano, coordinatore cittadino di Diventerà Bellissima. A causa delle emergenze a Palermo si sono alzati i toni della politica cittadina nei confronti del sindaco Orlando. Quali sono le prerogative di Diventerà Bellissima nei confronti della città di Palermo? Vorrei ringraziare intanto l'operato di chi in queste ore e nelle ore precedenti ha lavorato per ripristinare la carreggiata di via regione siciliana, quindi i vigili del fuoco, l'esercito, la polizia e anche gli operai del comune che sono stati costretti a intervenire dopo i fatti catastrofici che sono accaduti giorni fa. La nostra prerogativa è quella di essere presenti in questa città con degli interventi mirati. Noi in questi anni, non avendo avuto fino a qualche mese fa un rappresentante del Consiglio Comunale, abbiamo osservato dall'esterno quello che è l'attività di questa amministrazione comunale e più volte anzi siamo stati al fianco di iniziative importanti per lo sviluppo della città. Oggi ci troviamo in una situazione un po' delicata a mio avviso. Purtroppo ci dispiace che il Sindaco Orlando abbia dichiarato che tutto quello che è accaduto è colpa del governo regionale e della persona del Presidente Musumeci, quando purtroppo non è così, non è così perché la protezione civile aveva diramato un allerta meteo nei giorni precedenti riguardante la Sicilia orientale, non era al corrente dei dati che l'aeronautico in questo caso andava a fornire per quello che poteva accadere a Palermo, sappiamo perché abbiamo interrogato gli enti competenti che tutto ciò è accaduto per l'acqua a valle che è scesa dal nord della città e sappiamo perché ci siamo documentati che ciò che è accaduto è accaduto anche per dimenticanze e per problemi di burocrazia tra le partecipate, tra la RAP e l'AMAP che non si mettevano d'accordo per pulire le catitoie, quindi a mio avviso più di trovare un responsabile di quello che è accaduto, bisognerebbe tutti quanti sedersi intorno a un tavolo e comprendere il perché ancora oggi nel 2020 possono accadere questi fatti catastrofici. Noi, come Diventerà Bellissima Palermo, abbiamo chiesto al nostro deputato di riferimento, l'onorevole Alessandro Ricò, capogruppo di Diventerà Bellissima Lars, di presentare un'interrogazione in Parlamento dove chiederemo l'invio degli ispettori da parte della regione al comune di Palermo per constatare le responsabilità civili e penali di quello che è accaduto. Lei ha scritto sui suoi social un post abbastanza farraginoso nei confronti del sindaco e anche della sua giunta. Lei diceva tecnicamente al sindaco di farsi da parte, di mettersi perché non ha più il polso della situazione forse a causa della sua stanchezza politica. Io reputo che il sindaco Orlando è una persona che ha fatto la storia di questa città e con lui alcuni personaggi della sua giunta, che hanno lavorato, che hanno portato determinati interventi importanti. Però in politica bisogna anche saper capire quando è il momento di, non dico fare un passo indietro, ma di fermarsi e di ragionare, di attivare un cambio generazionale, di ascoltare i cittadini palermitani, di comprendere quali sono realmente i veri disagi che questa città propone quotidianamente. Noi sarebbe troppo facile attaccare il sindaco Orlando per quello che è accaduto. Secondo me, a mio avviso, va fatta una valutazione globale di quest'ultimo mandato. Ripeto e sottolineo, ci sono persone in questa giunta che hanno fatto tanto, di cui io non posso che ringraziare, ma ci sono tante altre persone che hanno creato dei disagi per impreparazione politica, per impreparazione amministrativa e che non capiscono che ci sono determinati interventi che vanno fatti in determinati periodi. Questo per fare una visione generale di quello che è accaduto. E questo post che è stato scritto sulla mia pagina Facebook, ma condiviso anche da tante altre persone, non era un attacco mirato alla persona di Orlando, ma era un appello, un appello che parta comunque sia dalle nuove generazioni, da noi giovani, da chi oggi ha la fortuna di amministrare un ente pubblico, da chi ha una carica politica, ma soprattutto da chi è lontano dalla politica e che è chiamato sicuramente alla prossima tornata elettorale a diventare protagonista per cambiare questa città, altrimenti sarebbe troppo facile lamentarsi in futuro. Lei ha 35 anni, come mai per lei il sindaco non è circondato da giovani, a parte l'assessore di Petralia, arrivato da poco, che è un suo ecoetaneo. Come mai Orlando riesce a trovare un delfino giovane che potrebbe far sì che nelle prossime legislature potrebbe prendere il suo posto? Io credo che non è soltanto un problema di Palermo, quindi della figura di Orlando. Per me questo è un problema a livello nazionale. Nel senso che a mio avviso c'è una poca presenza di giovani che sono affezionati alla politica, che vogliono fare politica. 15 anni fa mi ricordo le due fazioni, destra e sinistra, che facevano emergere continuamente dirigenti giovanili, perché dietro c'era una palestra, che era quella delle sezioni, che era quella comunque sia della scuola, dell'università. Oggi questo viene a mancare, perché secondo me sono cambiati anche i tempi. Oggi è facile fare politica tramite i social, tramite delle piattaforme e questo è sbagliato. Credo che a Palermo ci sono poche persone che possono avere delle qualità per amministrare una difficoltà difficile con una giovane età. Sono in pochi, perché ripeto, amministrare è una cosa molto difficile. Il mio appello è la fortuna che faccio parte di un movimento e coordino un movimento giovanile del Presidente della Regione, che ha investito tanto sui giovani. Noi abbiamo una grande comunità giovanile fatta da studenti delle scuole e dell'università e stiamo cercando sempre più di lavorare con i giovani nelle circoscrizioni, che sono la base della politica, dove uno si forma, quindi stiamo attuando un percorso di aggregazione in città a Palermo. Apriremo a settembre uno sportello del cittadino, dove il cittadino potrà andare a sottoporre i propri disagi, le proprie lamentele e le proprie richieste. Mi auguro, Maurizio, che nel 2022 questa città possa realmente fare un cambio di marcia, destra, sinistra, centro, ma fatto con, auspico ovviamente di centro-destra, ma fatto con delle persone che portano una visione diversa rispetto a quella che c'è stata fino ad oggi. Diversa in che senso? Una visione moderna, una visione che sia green, che sia a livello di infrastrutture a norma, una visione che possa valorizzare l'arte, la cultura, la musica, lo sport, tutti i fattori, tutti i veicoli dove la nostra terra potrebbe tranquillamente basarsi e guadagnare e produrre economia. Oggi serve un'apertura chiara con i partner privati, che sono la salvezza della pubblica amministrazione e su questo potrei raccontarti quante volte abbiamo cercato di trovare dei partner per ripristinare il palasporto di fondopatti, invece si è voluto seguire un'opera di finanziamento ministeriale, regionale, comunale, che ancora ad oggi i suoi frutti non l'ha portato. Quindi a mio avviso, ripeto, un partner privati sarebbe la base di questo e poi chiaramente la visione è diversa perché siamo nel 2020 e c'è una classe dirigente che magari oggi è lontana dalla politica che potrebbe sicuramente dare un contributo utile per lo sviluppo non solo della città di Palermo ma anche della regione del nostro paese. Un messaggio per Palermo potrebbe essere più giovani nella politica paternitana? Essere concreti, qualsiasi schieramento politico, ma essere concreti, risolvere i problemi, dare risposte più che fare le passerelle.